Lo attesta anche l'esito tragico di tutte le ideologie politiche anche di segno opposto e mi pare che lo confermi anche l'odierna crisi finanziaria, laddove si cerca solo il proprio profitto a breve termine e quasi identificandolo con il bene, si finisce per annullare il profitto stesso. Grazie per la visione!